Ciao a tutti amici, oggi vi faccio vedere il primo esperimento di stampa su magliette usando la tecnica della serigrafia screen printing qui si dice screen printing allora, si inizia da una foto di ciuscaccio oppure una foto mia spattaccate i livelli, posterize, trisold fino ad ottenere un'immagine bianco nero olè poi la stampate, oppure nel mio caso che non la stampate l'ho mandata all'iPad e ce l'abbiamo qui poi mettete sopra adesso nel primo esperimento pensavo che venisse un po' meglio e avevo comprato ieri per un dollaro uno di questi cosi bucherellati che ho detto, è perfetto l'ho schiaffato sopra così e l'ho ricalcato facendo l'immagine di ciuschi su questo poi, usando... possiamo vederlo qui è questa l'immagine poi, usando della normalissima colla vinilica sono andato a mettere con questo e con l'aiuto di un pennello la colla dappertutto tranne dove è nero poi, ho messo questo diciamo che è il telaio l'ho messo su una maglietta nera potete avere qualsiasi maglietta di qualsiasi colore usando qualsiasi colore io ho comprato il colore bianco ho messo il telaietto diciamo nanananananana vale, ho messo il telaietto qui ci ho messo la colla poi, usando una spatola che adesso al momento non ho qui ho fatto zuc e il risultato finale è venuto ciuscaccio in 8 bit allora, come prime passiamo subito ai pro e contro possiamo notare che i dettagli non sono eccezionali diciamo che è una versione 8 bit possiamo anche vedere che lì un pezzo d'orecchio non è venuto però questo era il mio primo esperimento ovviamente per se uno piace fare queste magliette poster esiste il metodo più professionale che è quello di avere sempre un'immagine così si possono fare anche molti moltiplici colori poi l'immagine viene stampata su un acetato quindi è trasparente poi usando con delle lampade uva si trasferisce su un telaio che ha una specie di pellicola che è sensibile alla luce d'oltre violetta poi o dopo che l'avete fatto passare la luce dopo la lavate adesso ci saranno magari dei prodotti chimici e sul telaio rimarrà foto impressa l'immagine allora praticamente otterrete questo senza usare l'effetto colla che ci ho messo tipo mezz'ora perché tanto quanto qui ma sono dovuto andare nei punti e poi alla fine è venuto bene comunque ho visto altre persone che fanno lo stesso procedimento però usano una maglia molto più sottile quella che hanno un coso tondo quelli che fanno i ricami che serve per fare i ricami hanno un coso molto più sottile e il risultato viene molto meglio quindi nel prossimo esperimento tenterò di comprare quell'attrezzatura lì e quindi vi farò vedere altre magliette prima di tutto ciao a tutti e Sì!